Sicuramente tenere la porta inviolata per la seconda volta di fila è molto importante sia da parte delle portiere sia da parte della squadra. Ringrazio i miei compagni perché è una grande squadra alle spalle e siamo contenti e cerchiamo di continuare su questa strada. Beh sicuramente la seconda, la prima ho anticipato un attimo e dopo infatti ho calciato alto mi sono arrangiato con il basso di richiamo, però la seconda di molta agilità e subito in piedi per spingere la terza. Queste qui sono le parti più difficili di non mollare mai mentalmente, di stare sempre lì sul pezzo perché come abbiamo potuto vedere oggi una minima cosa può creare un gol che dopo pesa perché sul 3-0 magari non pendolo e è più comodo. Sicuramente è una stagione che è ottimale per ora, quasi ottimale. Il primo posto ha sia dei pregi che dei difetti, il pregio è che ti fa sentire più forte e il difetto è che devi avere più responsabilità, più tensioni. Il primo posto è magnifico e cerchiamo di tenere solo stretto, adesso cerchiamo di continuare su questa strada così possiamo arrivare a un buon punto.